Lavori che andavano a gonfie vele e fatture che a fine anno finivano nel cestino come pure le dichiarazioni dei redditi. È finito nei guai un imprenditore edile di Pernumi accusato di non aver dichiarato al fisco negli anni dal 2009 al 2012 circa 4 milioni di euro di ricavi. A seguito di indagini il GIPA ha disposto il sequestro preventivo per equivalenti di beni pari a 500 mila euro pari all'imposta effettivamente evasa. I sigili sono scattati per 10 terreni tra Padova e Reggio Calabria, 4 abitazioni, 3 a Padova e una Reggio e 2 autovetture tra cui una Mercedes ML e un conto corrente. Tutto comincia dalla verifica fiscale fatta dalla tenenza di piove di sacco che scaturisce dall'incrocio dei dati presentati dai clienti dell'imprenditore. Loro sì che avevano presentato le denunce dei redditi, lui invece per l'agenzia delle entrate era un perfetto sconosciuto nonostante una lussuosa villa a Pernumia. L'uomo ora è stato denunciato all'autorità giudiziaria per il delitto di omessa dichiarazione da cui è scaturito il provvedimento giudiziario di sequestro per equivalente grazie al quale le fiamme gialle sono riuscite a congelare gli immobili e gli altri beni risultati essere nella disponibilità dell'indagato.